9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 come faccio al solito quindi appena finisco di mangiare quindi dopo che ho finito di mangiare il pollo come al solito andremo a buttare i nostri 5k nel cesso vi faccio vedere sono buttati veramente nel cesso ora in diretta con voi andremo a andare giù subito sentite andremo a andare giù vieni vieni vicino vieni vieni mostra ai in diretta che manda giù tutto prima nera fanno una tampa ho buttato più di 5k eccetera dopo a letto di pollo non so neanche più facciamolo ora usciamo ciao macchina sono neopatentato ma fa un culo guido veloce perché sono un negro 110 centro abitato 300 in autostrada 40 in estraubana perché sono cocariana lei mi sta facendo un pompino quindi io vado piano se no io non dono chiunque sale nella mia macchina giuro che paga benzina così così impara impara non avere ma facciamolo sapete già che ci c'è ho la macchina challenge e non sto neanche cazzeggiando ho la macchina challenge e non sto neanche che pando no non sei dai migliore challenge non sei ancora diciamo non ti ho migliore challenge non sei ho la macchina challenge non sei non sto neanche che pando non ti ho per dimostrare che non faccio vacanze da poveri ma da ricchi chiaramente un guccino più di 5k vicino al cazzo e possiamo andare in doccia non tambao che ci aspetta non non